Sito, ma che stai facendo? Quando sto facendo la sanguola, oggi facciamo pasta e patana all'ordata, però è sempre erosico, un lato, un straccio, un lato, un cacciaio, 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 grazie ma che voglio fare un po' l'amore e non soppre un po' l'amore e la roba passa il palazzo si fa dove c'è la vita forse o il palazzo ai quali tu le fucce è completo questo vuol dire allacciato qua lì bella figliola che ha portato vietta bella figliola e poi e poi sono prozze che mi sto contando ancora sono prozze che mi sto contando ancora e poi e poi e poi ciao a tutti quanti basta e fatele guardare